Spunta un nuovo fronte per la Confortigianato. Dal 6 giugno, fra una settimana, è fatto obbligo a tutte le ditte, anche individuali che forniscono servizi allo Stato, di emettere una fattura elettronica. Tale obbligo che dal 31 marzo 2015 riguarderà tutte le pubbliche amministrazioni, sembra non avere affatto le caratteristiche della semplificazione. L'impresa per farsi pagare la prestazione resa deve fare una fattura telematica e fin qua non c'è problema, ma lo Stato prevede l'archiviazione della stessa per un tempo di 10 anni. Qua c'è il problema perché le case di software richiedono, correttamente dal loro punto di vista, un pedaggio annuale per ogni singola fattura che va in questo momento ad implementare i costi di ogni singola fattura emessa e quindi va ad implementare alla fine il costo che la pubblica amministrazione sborserà per saldare la propria impresa. Il provvedimento riguarda fra l'altro una platea amplissima di potenziali interessati. Può essere il giardiniere che taglia l'erba per l'asilo, ho il mio elettricista che chiama le lampadine per una scuola e quindi ho l'impresa di pulizia che fa le pulizie per la provincia di Trieste quindi abbiamo una platea di imprese che è molto vasta, attenzione che queste rischiano di implementare i propri costi ma andiamo contro la cosiddetta spend review che lo Stato vuole per risparmiare denaro. Magari anche per i tempi stretti, fatto sta che i margini di manovra sono risicatissimi se non nulli e Compartigianato ad oggi ha una sola speranza. Non sembra ci siano prorghe sull'entrata in vigore di questo, quello che però Compartigianato chiede è che all'interno del sito dell'agenzia delle entrate che è un sito importante, un sito autorevolissimo ci sia una finestra con la quale l'impresa possa farsi al fattore elettronica e che sia la stessa agenzia delle entrate a provvedere all'archiviazione della stessa così il controllo può anche essere immediato. Grazie a tutti.